È stato approvato in giunta l'ultimo tassello da mettere a punto del Parco dell'Ebraile di Arco, il più grande parco urbano dell'Alto Garda, ovvero il progetto del punto Ristoro Bar. Si tratta di una struttura leggera e poco impattante, sottolinea il sindaco Alessandro Betta, dotata di servizi igienici, di un bar e di uno spazio ideale per organizzare piccole feste e compleanni. Il costo dell'opera si aggira sui 150.000 euro. Con il tempo il parco è destinato a crescere, osserva il primo cittadino, grazie anche all'iniziativa degli orti comunali. Il sindaco illustra le caratteristiche del progetto approvato dalla giunta comunale. Ci sarà uno spazio coperto di 100 metri quadrati, a ferma, a cui va aggiunto il blocco servizi e delle sedute comode, adatte per le famiglie. Per quanto riguarda il bando di affidamento e altre questioni, si vedrà nelle prossime settimane. Per l'inizio dell'iter di realizzazione del punto Ristoro Bar, bisognerà attendere l'approvazione del bilancio, ma contiamo di iniziare i lavori in primavera. Il parco, costato all'incirca 700.000 euro, rappresenta un'estesa aria verde circondata da una pista ciclabile. Inaugurato il 5 giugno del 2015, vi trovano spazio anche gli orti comunali gestiti, oltre che dai privati, anche da alcune associazioni che operano in ambito culturale e sociale. Grazie. Grazie.